Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi alcuni prodotti di beauty e di makeup che potrebbero essere delle idee molto carine per i regali di Natale In realtà la maggior parte sono prodotti che ho acquistato per me, facendo vari giri proprio per i regali di Natale E niente, volevo mostrarveli, quelli che si possono swatchare ve li swatcherò, vi dirò quali sono le mie prime impressioni Ho messo tutto in questa busta di cartone e ci sono sia prodotti bio che non bio Vi lascio giù nei info box anche alcuni link ad altri video che ho fatto ultimamente per i regali di Natale E niente, inizio col primo prodotto Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo Questa è una palette della Makeup Revolution Perché ho scoperto che nell'upim della mia città, io non la mia città ho l'unico upim Perché ne avevamo due fino a qualche anno fa e uno dei due è diventato VS Comunque solo nell'upim ho visto questa palette, c'era sia questa che il kit dedicato alle sopracciglia Io siccome per le sopracciglia comunque uso solo una matita non l'ho voluto prendere Comunque sia quello che questo costavano 15 euro Questo l'ho voluto prendere subito sia perché non ho mai visto la Makeup Revolution in vendita nei negozi Quindi quando l'ho visto l'ho voluto prendere perché io comunque ho molti prodotti di Makeup Revolution Che ho acquistato sia da Cosmetic For Less che da Machillaria E quindi ne ho profittato Comunque è una palette che contiene in totale 32 prodotti per il contouring e per lo strobing Ci sono 8 correttori per il contouring, 18 polveri illuminanti e 16 blush Dentro ci sono 85 grammi di prodotto e a 12 mesi di PAO E niente, quindi come l'ho vista l'ho voluto prendere subito Comunque la palette è molto grande e l'unico problema può essere magari se uno non ha molto spazio Per quando si trucca come me Perché io comunque pur avendo la postazione qua mi trucco in bagno E c'ho praticamente dove c'è il lavandino Il lavandino è bello capiente Però questa palette è davvero molto grande Non so come farò però mi piaceva, l'ho voluto prendere E questo soprattutto può essere secondo me uno dei regalini più carini da fare per Natale La palette è fatta così Praticamente qua avete una griglia disegnata come se fosse Excel E qua dice appunto Ultimate Blush and Light in Contour Palette E come vedete ci sono davvero tantissimi colori Non so quando mai ne terminerò uno Perché comunque io ho tantissimi blush Però proprio perché mi piace ogni blush l'ho voluta prendere E dietro praticamente è di posto un nero opaco I colori sono questi E per chi ha i blush comunque si può sbizzarrire tantissimo Perché comunque ce ne sono davvero tantissimi L'odore ha un po' di plastica Perché comunque la confezione è molto cheap Io ho notato comunque che nella parte soprastante Avete un piccolo specchietto Che adesso io non vi farò vedere perché sennò vi accecco Vi faccio qualche swatch per farvi vedere comunque quali sono i colori Non li swatcherò tutti perché comunque sono tantissimi Magari se mi piace la palette poi farò una recensione tutta per questa palette Vi mostro il fucsia più acceso Mi piace tantissimo perché a me piace tantissimo usare questi colori Comunque sono tantissimo pigmentati come tutti i prodotti di Makeup Revolution E il colore è questo L'illuminante che c'è più in alto è questo È molto luminoso E mi piace tantissimo Mi piacciono tantissimo gli illuminanti così E poi magari vi mostro il primo Diciamo per fare il contenuto in quello molto più chiaro che c'è in alto Che è questo qua Che può essere utilizzato anche questo come illuminante Comunque i colori mi piacciono Uno può provarli tutti Perché quelli sono piegati a per sé Anche perché comunque con un prezzo così Cioè va benissimo Un altro prodotto di cui sono orgogliosa di aver preso È questo Questa è una pastello labbra di Neve Cosmetics Che è uscita con la nuova collezione Che sarà uscita tipo un mesetto fa Che è la Drama Empire Io non l'avevo proprio filata di striscio Quella collezione Non lo so perché c'erano sei di queste matite E poi la cipria compatta Non lo so Non mi aveva tratto inizialmente Però sono andata nella profumeria della mia città La mia preferita Dovevo fare un regalino per una mia amica Gli ho swatchati E alla fine ne ho preso una a lei e una a me Io ho preso praticamente la Idol M225 A 12 mesi di Pau Comunque le pastello labbra sicuramente le conoscete Ma sono bellissime Sia da usare come rossetto Sia da usare proprio come matite Io le utilizzo sempre come rossetto E questa è quella che mi ha colpito di più Perché diciamo che è a metà nella collezione C'erano quelle molto chiare E quelle un po' più sul rosso E questa mi è piaciuta di più Perché comunque ha secondo me Un po' di marroncino all'interno E questo rosso non tanto acceso Però che mi piace Perché a me non piacciono i rossi molto accesi Che utilizzerò soprattutto nelle vacanze di Natale Poi oltre a questo Della stessa collezione Ho acquistato appunto la cipria Perché mi sto fissando con le ciprie compatte Io utilizzavo quella di Essence Adesso sto utilizzando quella di Debbie Che mi è quasi finita In un mese praticamente l'ho finita E ho voluto prendere questo Per provarne una bio Perché non ne ho mai provato una bio Perché è di Neve Cosmetics Mi ho sentito a parlare tantissimo bene Quella in Povera e Libra Però io faccio un casino Quella in Povera e Libra E quindi non mi è acquistata Comunque è fatto così Qui avete come tutti Tipo il Flat Perfection di Neve Cosmetics E praticamente c'è la confezione così E questa è la cipria Che non vi svolge perché tanto è trasparente Quindi è la cipria traslucida Dentro ci sono 8 grammi di prodotto E a 12 mesi di poverti C'è anche lo specchietto Questa si chiama Drama Matte Flat Perfection Smoothing Compact Powder E quindi è la cipria compatta E mi piace anche la confezione Secondo me è molto carina Anche da portare in giro Proprio perché c'è lo specchietto Ed è più facile da utilizzare Proprio con la bio perfumeria La ragazza che è gentilissima Mi ha regalato due campioncini Uno praticamente è la Beauty Farm Sempre di Neve Cosmetics Quindi la crema detergente E maschera idratante Che non ho mai provato E un'altra è dell'Alchemilla La maschera per capelli Ristrutturante con fragole e panna Sono entrambi bio E questa praticamente Che è la maschera per capelli A 7 ml di prodotto Invece quest'altra A 3 ml di prodotto Comunque le proverò Poi se mi trovo bene Sicuramente acquisterò Il formato Big Size Come sapete Io sto utilizzando tantissimi Campioncini ultimamente Perché ne ho tantissimi E voglio un po' smaltirli Se volete vi lascio giù Nell'info box Il link al video Che ho chiamato Sagra dei Campioncini Dove ne ho utilizzato Cioè vi parlo tantissimo Di quelli che ho utilizzato Nell'ultimo mese Mese e mezzo E poi ho preso Un lennesimo pupazzetto Alconad Perché come sapete Vi ho mostrato in altri video Sto acquistando questi pupazzetti Che praticamente costano 2,50 euro 50 centesimi Vengono devoluti Qui al microcitemico Quindi all'ospedale Sono fanno parte Si chiamano cuccioli del cuore E appunto Costano 2,50 euro 50 centesimi Vengono devoluti E se spendete Almeno 25 euro Di spesa Alconad Sono 8 E io li sto appendendo Nell'albero Ne ho già 3 Questo è il quarto E sicuramente Li collezionero tutti Perché mi piacciono tantissimo Poi sono stata Da OVS Come sapete Io di OVS Ci vado almeno Una volta alla settimana Infatti avevo acquistato già 10 giorni fa Un bicchiere di plastica Con la rena disegnata Dove all'interno c'era Il burro a cacao Allo zenzero E una lima per unghie Che sto Cioè il burro a cacao Lo sto utilizzando tantissimo La lima è tutta disegnata Quindi la sto Cioè Ricolleziono lima per unghie Quindi non l'ho utilizzata Comunque Sono riandata all'OVS E ho trovato Altri due prodotti Che mi sono piaciuti Uno è Questa crema a mani Di Shaka Ce ne ho due profumazioni L'altro non mi ricordo qual è Questa è la vaniglia Si chiamava Intense Vanilla Questa costa 1,99 euro Ci sono 50 ml di prodotto 12 mesi di pao Senza parabeni Ed è dermatologicamente testata Sicuramente non avrà un inci Chissà come Però Mi piaceva il profumo L'ho voluta prendere Di quelle Sono di quelle Diciamo Creme per mani Che vanno benissimo In borsetta E poi ho acquistato Sempre da OVS Questo Praticamente sono Tre maschere Della Beauty Junkie Che è una marca Che sto vedendo Ultimamente Ma di cui non ho mai acquistato niente Anche questo può essere Un regalino molto carino Magari Di fare una composizione E appunto C'è una maschera La viso al melograno Una maschera per capelli Alla mandorla E una crema a mani Alla cetriolo C'è la data di scadenza Direttamente Cioè c'è proprio La data di scadenza Non è di quelli che aprite Sapete la data di scadenza Ah sto vedendo Che comunque È della marca NPW Di cui ho acquistato Uno specchietto A forma di gattino Che utilizzo in borsetta E niente Sono tre Praticamente 10 ml di prodotto In totale Anche questo Come vi dicevo Può essere un'idea Davvero carina Sia per fare una composizione Sia se volete fare Un piccolo regalino Da acquistare questo E niente Fatemi sapere voi Che cosa state Acquistando Per i regali Se avete qualche idea Se fate il video Delle idee per Natale Mettetemi giù il link Sicuramente lo guarderò Se avete commenti da fare Su questi prodotti Che sto acquistando Sicuramente li guarderò Se la pensate come me Pensate in maniera diversa Per questi prodotti Se è piaciuto il video Mettetemi piace E a presto Ciao